Questo, questo è il bordello, meno elegante che io conosca, dove di rado vengono i marinai della flotta da guerra, capace di introdurmi un po' di grazia e di freschezza. Io sono culafrua, culafrua, di sera mi sorprendo in un gesto male, smisurato, culafrua. «Guttea, bad, guttea». Ti dice il barino, il bene di questo mondo, su fauzi e è mortale. Alla uslomondo, tutti scusi, ciamannare, è tutto uguale. Il mondo è opposto il mostro, che del mondo assunce la dimensione e la potenza. Uè, padrone che si vuoi sfrattare la prima figlia mia a Maratà. E i mobili di contrasto con l'orgricio antracite? E i mobili di contrasto con l'orgricio antracite? La trasformazione mi ha estasiato, ma non ci si veste soltanto per se stessi. La sua porta stupisce con pesante pannello coperto di ferro. Per essere così ben custodito bisogna che il tesoro sia pericoloso per il resto del mondo. Io sono il marinaio da esigere per la sua protezione in cui resti recluso. Voi siete nella vita supporto di una parata che dovete trascinare nel fango del reale. Gli autori La sua porta stupisce con pesante pannello coperto di ferro. E i mobili di ferro. E i mobili di ferro. Grazie a tutti Grazie a tutti